ciao lettori elettrici di mamma style e benvenuti in un nuovo video sappiamo quanto siano buone le patate che siano fritte o al forno fanno impazzire grandi e piccini ma oltre ad essere un piatto prelibato forse non tutti immaginano ma oltre che eliminare le occhiaie le patate possono essere utilizzate nelle faccende domestiche tantissime infatti sono le persone che utilizzano mezza patata quando si dedicano alle pulizie delle loro abitazioni garantendo dei risultati super siamo certi che anche per te sarà capitato di sforzarti tantissimo per pulire i vetri alla perfezione ma non sempre sei mai riuscita ad ottenere un risultato splendente ed impeccabile ebbene da questo momento in poi sai qual è la soluzione che fa a caso tuo il primo passaggio da fare è tagliare in due una patata cruda adesso iniziate a strofinare la parte tagliata della patata su tutto il vetro poi bagna un panno con acqua e aceto e inizia a strofinare su tutta la superficie infine con un panno asciutto inizia ad asciugare tutto il vetro con questi tre semplicissimi passaggi e in metà patata il tuo vetro sarà splendente come non mai come sempre se ti va lascia un like iscriviti al nostro canale e per tantissimi altri consigli non dimenticare di visitare il nostro sito www.mammastyle.it www.mammastyle.it www.mammastyle.it